METEOSETTE.IT L'alta pressione si è messa da parte favorendo l'insediamento di un'ampia circolazione depressionaria, la quale condizionerà il tempo sulla nostra regione per l'intero fine settimana. Pioggia anche di una certa consistenza si sono verificate nelle ultime 24 ore e altre cadranno nei prossimi giorni, andando così a compensare il deficit pluviometrico che abbiamo registrato nel mese di marzo. Si sente spesso parlare di primavera pazza quando piove e fa relativamente freddo tra marzo ed aprile. Affermazioni davvero fuori luogo, poiché la primavera è proprio questa, dai mille volti, la stagione più variabile e dunque sono assolutamente normali i cambiamenti repentini del tempo in questo periodo. Non deve meravigliare se nevichi ad aprile in montagna, così non dobbiamo stupirci per due o tre giornate prevalentemente grigie e piovose. Ricordiamoci anche del proverbio, aprile ogni goccia un barile. Bene, invece per quanto riguarda il prossimo fine settimana, quale sarà il tempo previsto? Per domani, sabato 13 aprile, avremo a cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, con possibili precipitazioni intermittenti, più probabili nelle aree a ridosso dei rilievi, esposte ad ovest. Tendenza schiarite tra il tardo pomeriggio e la serata, temperature senza particolari variazioni, con valori lievemente al di sotto della media del periodo, venti generalmente deboli occidentali e mare mosso. Per domenica 14 ancora condizioni di tempo instabile ovunque, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, in modo particolare nelle ore centrali della giornata, temperature stazionarie, venti da deboli a moderati da sud ovest, tendenti a disporsi da maestrale dalla serata, mare da mosso a molto mosso. Invece per quanto riguarda la prossima settimana, la tendenza per la prossima settimana, che cosa ci puoi dire? Lunedì ancora condizioni di tempo instabile con altre occasioni per precipitazioni. Da martedì invece è previsto il rinforzo dell'alta pressione con il ritorno a condizioni meteorologiche meno instabili e con temperature in ripressa. Ma, per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare il sito www.meteo7.it Grazie a tutti.